Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono un appassionato di moto e se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno così sarai sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Oggi ti voglio parlare di Bimota Tesi H2 di quest'anno 2023, è una moto però che è stata presentata a partire dal 2019 quando la Bimota dopo un accordo con Kawasaki e due imprenditori svizzeri che detengono la maggioranza di fatto comincia a produrre questa moto, quindi volendo essere precisi Kawasaki detiene il 49,9% dell'azienda mentre la restante parte è divisa fra questi due imprenditori svizzeri. Il nome Bimota deriva da quello dei fondatori che erano Bianchi, Morri e Tamburini che nel 1966 fondarono l'azienda quindi da questo matrimonio nasce appunto la Bimota Tesi H2 che ha il motore della Kawasaki Ninja H2 mentre la parte strutturale del telaio e le sovrastrutture, quindi la carenatura e le altre parti appunto sono di fabbricazione Bimota. Allora vediamola qui in questa bella immagine dove appunto si evidenzia una moto con caratteristiche notevoli ovviamente per quanto riguarda il motore perché comunque è derivato, ma ne parliamo dopo, dall'H2 ma anche per le sovrastrutture che sono appunto molto particolari. Quindi cominciamo a parlare del motore che è un 4 cilindri in linea di 998 cm3 che viene sovralimentato con un compressore centrifugo. La distribuzione è a doppio albar cam in testa, 4 sulle valvole per cilindro, la potenza massima di 231 cavalli, 11.500 giri al minuto ma con l'airbox in pressione, scusate, raggiunge la notevole potenza di 242 cavalli, sempre lo stesso regime di rotazione. La coppia massima è di 141 Nm a 11.000 giri al minuto, quindi un motore molto sportivo adatto sicuramente alla pista. Il telaio è formato da piastre in lega di alluminio che vengono ricavate dal pieno. La ciclistica è formata invece da due forcelloni, quindi sia l'anteriore come il posteriore, naturalmente al posteriore c'è il forcellone, ma che si è notata anche dall'immagine, si vede come anche la sospensione anteriore non sia formata dalla classica forcella, bensì da questo forcellone. Quindi, stavo dicendo, due forcelloni anteriore e uno posteriore, sì, che sono, volevo dire, realizzati in alluminio ricavato dal pieno. Da notare che il sistema sterzante, che è separato da quello ammortizzante, quindi abbiamo l'ammortizzamento del forcellone che si trova qui sotto davanti al motore, quindi c'è un ammortizzatore in quella posizione, però c'è poi un sistema di leve che permette appunto di fare ruotare la ruota anteriore. L'escursione, quindi parliamo dell'escursione della ruota anteriore, è di 100 mm, mentre al posteriore l'escursione è di 130 mm. La sella è alta 840 mm da terra, ma si può regolare leggermente con una differenza di più o meno 10 mm. Parliamo poi dei freni che sono formati da un doppio disco anteriore da 300 mm, mentre al posteriore abbiamo il singolo da 220 mm. Il peso a secco di soli 207 kg è stato raggiunto grazie all'utilizzo, oltre che dell'alluminio, come abbiamo visto per quanto riguarda il telaio, ma anche la sospensione, anche di particolari in carbonio. Il serbatoio della benzina ha una capacità di 17 litri, il prezzo della moto è notevole di 64.000 euro, ma giustificato appunto dalla sua ricercatezza, tra l'altro viene proprio fabbricata a mano, e le 250 sono gli esemplari che sono stati prodotti, quindi anche numerata. Se ti è piaciuto il video metti il like, se non ti è piaciuto metti il dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi. Primo, è gratis, secondo, faccio un video al giorno così sei sempre aggiornato, aggiornato. Qui sotto i tuoi contenuti sempre graditi. Ciao, buona serata.